La polizia entra dentro e faccia un porcone. Qui abbiamo lo sboglio dell'Arabia, sopra c'è una lista, era un vecchio corpo di parte dei fascisti, è stato venduto da un tedesco di fare il pittore degli anni 50. In quel palazzo giallo sulla spiaggia di Santa Maria, c'è una pensione, abbiamo un ospite, un po' costruito, è stato venduto da 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 un po' costruito. Ci passiamo molto vicino. A Renato e Monti Guardi, da sopra c'è un numero, è un vecchio paro della pareda militare, corpo di parte. A Renato e Monti Guardi, da sopra c'è un po' costruito, è stato venduto da un po' costruito, è stato venduto da un po' costruito. a Renato e Monti Guardi, da sopra c'è un po' costruito, è stato venduto da un po' costruito da un po' costruito. Grazie a tutti. Un bello scoltrino. 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 Questa in realtà�� autonoma. Unangsitptorino. Un pacchetti. Un siliconismo. Un pacchetti. Mamma mia, che bello, guarda che colore, guarda che colore, mamma mia Grazie 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 Sembra poco Non dico se c'è una strada normale, che è il mare, più di più la velocità. Infatti io mi immaginavo che aveva questa barca piena e c'erano, 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 e niente, C'erano, e c'erano, e c'erano, e c'erano. Rapporti Ok, bene, lasciamo l'isola qui lasciamo l'isola alle nostre spalle con questo ultimo scorcio dei faraglioni della Madonna e delle grotte di Pilato una magnifica giornata, spero che portiate tutti a casa un bel ricordo dell'isola lunata di questa magnifica perla del Mediterraneo e lentamente riprendiamo la via del ritorno l'arrivo è previsto intorno alle ore 20 abbiamo una condizione di mare eccellente e ci dirigiamo con la nostra prua di ritorno verso Formia verso questo antichissimo porto romano questo è un bici di sfada Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dove la troviamo in Venezia? Non lo so, adesso vediamo la selezione musicale del comandante. Non lo so, che hai una chiavetta? Non so come funziona qui, aspetta. E' troppo complicato. Non lo so, dopo vediamo, adesso vediamo. Bene. Allora, mentre siamo in navigazione ci sarà poi una piccola dolce sorpresa per tutti quanti. Non si sente? Non si sente? Vediamo un po'. Facciamo la prova a microfono. Dietro dice che non si sente. Si sente dietro adesso? Prova, prova, prova un altro po'. Ok, così va bene. Ok, perfetto. Si sente benissimo adesso. Ok. Bene, un po' di musica, un po' di relax e ci godiamo questa navigazione verso il ritorno. Buon proseguimento a tutti quanti. Si, 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 si. Chi è che ha detto la sorpresa? Ti chiami? Azurra? Bello, che spettacolo. Che spettacolo Azurra. Allora, per la gioia dei più piccini, ma anche dei più grandi, visto che siete stati, come dire, chi vince qua? Qua proprio, chi è che vince? Cominciato ora non si sa, va bene. Ci abbiamo anche la pisca clandestina, a bordo, posto, perfetto. Attenzione perché ci sono stati gli avvistamenti dei delfini, che mi ha telefonato prima il mio amico dell'Ipognum. Attenzione perché il mio amico dell'Ipognum, la barca che va al Ciceo, che è partita esattamente 40 minuti fa, hanno visto, hai visto? Quello l'ho visto anche io, non ho fatto il tempo a dirvelo perché dovevo mettere tutti i dati nel computer. Ok, attenzione perché ci sono gli avvistamenti dei delfini. Allora, per la gioia dei più piccini, ma anche dei più grandi, oggi a sorpresa, caro Riccardo, cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Esatto, ci sarà porchetta per tutti. Cosa ci sarà?